allora sono qui con paola gironi home staging evolution un libro che è subito diventato numero uno nelle classifiche di amazon quindi innanzitutto paola come ti senti sono molto emozionata sono molto emozionata sono questo contrasto di bello e paura un insieme di emozioni di perché comunque poi metti in gioco tutto quello che è anche il tuo essere la tua vita metti tutto di te nel libro questo fatto io e per me è stato importante parlare di me del mio percorso quindi per dare più più nozioni possibili al lettore ma questo si vede si legge già della passione con scritto il libro che è un libro che poi di fatto aiuta a vedere la casa con le giuste emozioni no a rappresentarla nel suo meglio eccoci bene cosa racconti nel libro e cos'è l'home staging allora è quello che appunto parla nel libro è quanto soprattutto quanto sia importante e individuare e lo stato del proprio immobile questa è la prima cosa perché l'home staging va a riportare luce e vita all'immobile e lo ripropone come nuovo sul mercato quindi quello che noi dobbiamo capire è cosa vogliamo ottenere dal nostro immobile quanto vogliamo ottenere e che cosa siamo disposti a fare soprattutto e è importante individuare il valore che oggi il mercato dal nostro immobile e non lo possiamo fare ragionando e guardandolo con gli occhi di chi ci vive ma lo dobbiamo fare con gli occhi di un estraneo quindi dobbiamo estraneo estranearci uscire e vedere tutto quello che il nostro immobile ci può dare l'home staging è la messa in scena della casa quindi tu vai a rappresentare un immobile e che avrà presentato poi sul mercato e con delle immagini con un bel con un bell'annuncio che propone a più persone di più e se vogliamo di più stili di più modi di vita di che si vanno a come posso dire non tutte le case sono uguali io non posso entrare in una casa e vedere la tua vita in quella casa io non posso entrare in una casa e vedere i tuoi colori le tue scelte i tuoi gusti perché non mi stai facendo vedere cosa mi stai vendendo mi stai facendo vedere cosa tu hai vissuto fino oggi quindi va svuotata di tutto questo e va riproposta in modo che chi guarda chi entra chi è ospite in quella casa viva l'immobile in sé com'è le sue pareti i suoi muri i suoi spazi i suoi volumi tutto quello che parte dell'immobile no della nostra vita quindi questo assolutamente è una cosa di primaria importanza quando un immobile vuoto non lo possiamo presentare vuoto perché chi entra come fa a capire quanto spazio ha per metterci la cucina per metterci la sala per metterci un letto quale letto metterci noi lo dobbiamo fare vedere e questo è assolutamente la base dell'home staging io lo trovo veramente di grande interesse sia da appassionato di mobili ma anche da immobiliarista che ogni tanto fa qualche investimento sai benissimo che vedi case che sono presentate in malissimo ma a partire dalla ricerca sui siti immobiliare casa.it dove le foto rappresentano tutto un po come la copertina del libro rimanendo in tema dalla copertina spesso scegli un libro ecco mettere la copertina giusta una casa essenziale e non lo fa nessuno lo fate in poche è una cosa ancora culturalmente non avanzata per fortuna per chi è professionista in questo lavoro significa avere tanto lavoro avere tante cose ancora da divulgare ecco è lo specifico per le persone che leggeranno il tuo libro quindi magari vorranno fare un staging nella propria casa tu cosa fai in che modo li aiuti allora quello che io posso fare il modo in cui solitamente aiuti i miei clienti e inizio con una consulenza quindi quella assolutamente di base c'è anche chi vuole solo una consulenza perché magari pensa di non dover andare oltre c'è chi non se lo può permettere o non ha capito che in qualche modo lo può fare lo stesso perché comunque ci sono tante tecniche per poterlo fare e vendere velocessivamente e pagare tutto quello che hai investito perché comunque di un investimento si tratta la prima cosa che spiega i miei clienti è che parliamo di un investimento non una spesa quello che loro oggi possono pagare e non dico spendere proprio per questo motivo è semplicemente una piccola parte di ciò che loro otterranno indietro con il loro immobile quindi la prima cosa che faccio è approcciare a loro cioè per fargli capire cosa stanno andando a fare voglio portarli proprio a capire cosa possono ottenere dal loro immobile e questo lo posso solo lo posso fare solo se io riesco a fargli comprendere le potenzialità del loro immobile e fino a dove possono arrivare e quali possono essere le tecniche che possono applicare posso partire da un ripeto da una semplice consulenza come si può andare poi invece a fare un decluttering dell'immobile e comunque presentarlo in modo molto bello e accattivante in ogni caso anche senza fare un grosso investimento quando invece magari a volte abbiamo la possibilità di fare completamente un restyling dell'immobile o anche completamente una ristrutturazione questo ci amplifica il nostro rientro dall'investimento spesso e volentieri arriviamo anche ad ottenere il doppio di quello che il mercato ci avrebbe dato senza fare nulla quindi io li faccio vedere un po tutte le loro varie possibilità e in questo modo intervengo chiamando e oltre alla mia figura eventualmente le altre figure interessate all'intervento o possono direttamente farlo i miei clienti a volte capita che hanno il pittore di fiducia il piastrellista di fiducia e questo lo possono fare loro tranquillamente e quando non ce l'hanno sono io a portarli a chiamare il determinato artigiano perché so le sue qualità lo conosco e so come interviene quindi per me questo è importante assolutamente la qualità sempre in primis wow wow quanta passione che metti nel tuo lavoro si vede che lo ami e credo che proprio tu abbia davanti un percorso di divulgazione importante perché chiaramente per poter offrire i tuoi servizi devi prima far comprendere alle persone ai potenziali clienti che esiste l'home staging che probabilmente molti esatto siamo ancora nel vecchio che metto l'annuncio e speriamo di vendere e quindi mi adeguo poi alle regole ai prezzi del mercato questa è una cosa Giacomo che mi hai fatto comprendere tu quando ci siamo conosciuti io avevo partecipato a questo corso dove c'eri anche tu e questa cosa assolutamente tu e si è stato fondamentale per farmi comprendere quanto fosse importante far conoscere il nostro lavoro ai clienti perché spesso e volentieri neanche magari ne conoscono l'esistenza e non è che ne vogliono fare a meno ne fanno a meno perché non lo conoscono e quindi noi dobbiamo avere la responsabilità di farglielo sapere sì sì esattamente e non a caso hai scelto il libro che è lo strumento principe per fare questo tipo di lavoro divulgativo e quindi l'ultima domanda è come mai hai scelto Bruno Editore per pubblicare il tuo libro come ti dicevo voi mi avete ispirato e quindi per me questo è stato assolutamente fondamentale siete anche i numeri uno nell'editoria imprenditoriale quindi direi che assolutamente ho detto se faccio una cosa la faccio bene e quindi la faccio con i migliori sono contenta del percorso che abbiamo fatto insieme della vostra professionalità e tutto quello che sono stracontenta della scelta che ho fatto mi sono lasciata guidare dall'istinto e sono contenta della mia scelta ottimo anche perché i numeri lo confermano stanno andando benissimo primo in classifica è uscito su un sacco di giornali agenzie di stampa e non è così uguale per tutti quindi ottimo lavoro e quindi vorrei invitare tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento andare su Amazon e cercare il libro di Paola Gironi Home Staging Evolution perché è un libro che se volete vendere a casa o se siete nel settore immobiliare sicuramente vi può dare una grande mano per andare più velocemente e magari vendere anche a un prezzo più alto quindi grazie a tutti grazie Paola per questo libro grazie a voi a presto grazie a tutti